Beh, che dire, Allegri l'aveva dichiarata, no? Potrebbe essere una partita sporca, direi che è stata l'ercia come partita, non sporca, l'ercia praticamente. E allora, in una situazione normale, no? In cui la Juventus va bene, una partita di questo tipo, fai un po' più fatica, cioè l'accetti, nel senso una partita ogni tanto l'accetti. Quindi, in questo momento invece è diventato un po' lo standard di prestazioni della Juventus, è ovvio che oggi non era facile, oggi davvero non era facile, per un discorso relativo alle tante assenze. Poi ribadisco, in un momento in cui tutte le cose vanno bene, la mandi giù in maniera più leggera, oggi secondo me assume tanto significato perché già la Juve non va bene, già c'erano le assenze. Il problema è che questo è diventato un vero e proprio standard di prestazioni della Juventus e è ovvio che il tifoso vorrebbe cercare di vedere qualcos'altro, perché, insomma, Lecce poi addirittura a pochi istanti dalla fine trova addirittura un palo e rischia addirittura di farti andare di traverso anche questo sabato sera, una partita che sulla carta, la calendario, dovrebbe essere facilissima. Io vi invito a scaricare il numero 10, il link è qui sotto in descrizione, scaricatevelo perché poi ci saranno dei contenuti esclusivi anche da parte mia, che unisce Lecce e Juventus, tra l'altro vi dico così, dato che in questi giorni sta uscendo una voce relativa ad Antonio Conte, voglio pubblicare un contenuto sul numero 10 che parla proprio di questa cosa qua, scaricatelo gratuitamente dal link qui sotto in descrizione. Lecce, ragazzi, io dico proprio tranquillamente, forse la peggior squadra che ho visto giocare contro i Juventus in Serie A quest'anno, a livello proprio tecnico, tantissimi errori del Lecce, a un certo punto mi è sembrato quasi che volessero farci fare gol, a un certo punto siamo riusciti a farlo soltanto grazie a una prudezza di Niccolò Fagioli, e io sono contentissimo del gol vittoria di Niccolò Fagioli perché sono molto, molto legato a questo giocatore che ho conosciuto personalmente quando ancora faceva parte della primavera della Juventus, sono stato felicissimo di vederlo ritornare alla Juventus questa estate e in più di un'occasione mi sono interrogato chiedendomi quale fosse il programma di gestione di Niccolò Fagioli perché fino a questo momento e anche oggi stesso era stata una gestione secondo me imbarazzante del giocatore che se decidi di tenere perché magari ci credi o decidi di puntarci invece fino a questo momento non aveva praticamente mai trovato spazio anche in partite magari più facili sulla carta come questa qua perché se i ragazzi non iniziano a giocare queste partite qui facili sulla carta poi non puoi pretendere che possano essere pronti da buttare nella mischia una partita importante come quella col Benfica Gatti-Docet praticamente perché Gatti non ha praticamente mai giocato, scusate la ripetizione, se non in occasione di Monza-Juve e poi era stato veramente buttato nella fossa dei Leoni in una partita complicatissima e delicatissima e poi ci si erano anche stupiti che potesse non essere pronto, beh insomma il processo di crescita impone dei traguardi intermedi e la partita del Lecce era assolutamente uno di queste la cosa veramente bella che mi porta a casa oltre appunto al gol di Fagioli e alla presenza di tutti questi giovani è il fatto di aver vinto in trasferta lontani da Torino dopo sei mesi per il resto faccio fatica a trovare delle note positive, faccio veramente molta fatica perché abbiamo detto sì, era una situazione difficile per la Juve perché la Juve non sta andando bene era una situazione difficile per la Juve perché c'erano tanti assenti, situazione difficile per la Juve perché c'erano in campo dei ragazzi che magari la Serie A non avevano mai vista come Fagioli, come Miretti, come Sule come Healing, come Gatti, quindi queste sono cose positive assolutamente però prestazione abbastanza insufficiente secondo me in generale della Juve nonostante dall'altra parte ci fosse una squadra che secondo me farà molta fatica a salvarsi, cioè giocherà fino all'ultima giornata per provare a salvarsi squadra che non aveva mai vinto in casa, squadra che non ha mai fatto clean sheet in questa stagione, noi siamo andati vicino a farglielo fare squadra che ha vinto una sola partita in Serie A, squadra che veramente ha dei problemi ma anche il livello dei calciatori si vedeva che tanto sbagliavano dei passaggi, sbagliavano delle giocate che io in Serie A onestamente un livello così basso in questa stagione non l'avevo ancora visto quindi Lecce non mi ha sicuramente stregato magari come avevano fatto altre squadre in passato che mi facevano dire oh sai che se la sono proprio meritata sta vittoria o sto pareggio nei confronti della Juve, oggi la Juventus sì sicuramente la vittoria se la merita perché è stata la squadra che magari ha creato più occasioni però ribadisco se poi quel tiro del Lecce va dentro alla fine che storia racconti cioè mi dispiace che questa squadra non provi nemmeno ad andare ad aggredire, ad azzannare questi avversari che sulla carta dovrebbero essere molto 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 abbordabili anche per una squadra con tante assenze una Juve che tra l'altro secondo me ha rischiato in più di un'occasione di trovarsi con un uomo in meno perché ci sono stati tantissimi cartellini gialli e quadrato almeno un paio di volte sono stato lì con l'acqua alla gola a dire oddio mio, oh mio dio, adesso prende il cartellino rosso e vediamo un remake di Monza mi aspettavo di vincere oggi, ero abbastanza convinto di portare a casa i tre punti però devo dire la verità non mi aspettavo in questa maniera così combattuta mi aspettavo una partita più facile perché le premesse erano da partita più facile poi certo la Juventus che non vince da sei mesi lontana da Torino, certo la Juventus con dieci disponibili, certo, certo, certo allora ragazzi che fatica che facciamo è una vittoria che vale tanto è una vittoria che vale tanto perché in un momento difficile della squadra oppure in eminazione dalla Champions quindi sicuramente è una vittoria che vale tanto però mi dispiace onestamente mi dispiace vedere una Juventus così in difficoltà anche per fare tre punti contro una squadra così, come il Lecce che dovrebbe essere una squadra tranquilla io però da questa partita vorrei veramente riportarmi dietro questo discorso legato ai giocatori che nascono dal vivaio che crescono dal vivaio, che vengono svezzati e lanciati in prima squadra perché c'è sempre più bisogno secondo me di questi profili e vedere Fagioli che fa gol e si emoziona per me è stratosferico perché so che lui il cuore sicuramente la gamba non me la toglierà mai che ci metterà tutto se stesso per cercare di emergere all'interno di questa squadra quindi veramente se c'è una linea a seguire deve essere questa basta, basta strappagare i giocatori e pregarli di venire a giocare per la Juventus attenendoci a magari un passato nel quale avevamo fatto un paio di stagioni fatte bene basta, basta giocatori che magari decidono di fare un paio di partite in meno piuttosto che un paio di partite in più perché non vogliono rischiare di perdere un evento o la forma fisica, basta cioè ripartiamo davvero da giocatori che hanno voglia, fame, grinta e volontà di emergere perché se la Juve oggi questa partita l'ha vinta in questo momento di difficoltà è proprio per questo è soltanto per questo, è unicamente per questo perché il gruppo sì, devi cementificarlo però dall'altra parte poi devono venire fuori anche questi valori che alcuni giocatori con una carriera già scritta non possono darti quindi questa è davvero l'unica cosa positiva da portarsi dietro oltre alla vittoria difficile e al momento difficile anzi probabilmente vale più il gol di Fagioli che i tre punti oggi il gol di Fagioli vale tantissimo ed è l'unica cosa da salvare in un pomeriggio molto noioso molto, molto noioso era un pezzo che non mi capitava di sbagliare guardando una partita alla Juventus e per questo vi dico che non porterò la live reaction perché a cosa reagiamo? a un 1-0 risicato con veramente poche occasioni da gol clamorose vi porterò invece le pagelle, l'analisi della partita cercando di mettere in evidenza quelle che sono state le azioni da gol e le occasioni da gol più pericolose andiamo a contarcele un po' insieme però un po' poco, decisamente poco quindi buon sabato sera a tutti non so quali programmi abbiate per questa serata io ora mi metto al lavoro mangio un boccone e poi mi metto al lavoro perché qualcosina da fare c'è ma non così intensamente dato che è stato un lecce a Juventus possiamo dirlo di una noia mortale vittorioso che si porta via soltanto un buon momento con tanti ragazzi del Lander in campo tanti ragazzi cresciuti nella Juventus in campo ed è la cosa più bella in assoluto però bisogna dare continuità e non crederci soltanto una tantum perché è mezza squadra fuori dai